Semplicemente erano delle sottolineature più che domande, partendo dalla concretezza del livello educativo, quindi da un lato la ripresa di quel binomio che abbiamo visto, esemplarità-imitazione, di questa catena fatta di imitazioni successive di un modello, e l'altro era l'aspetto soprattutto paterno, la dinamica paterna, di incoraggiamento, bisogna dire anche appunto di rimprovero, e si sottolineava anche la lettera a Timoteo, dove questo atteggiamento paterno è fatto in maniera opportuna e non opportuna. Direi di comprendere così questo opportuno e non opportuno. è il non gettare mai la spugna a livello educativo. Io lo leggo così, cioè parto da un dato scritturistico, biblico, e poi faccio un'immagine per tentare di spiegare. Allora, se voi riprendete le parabole della moneta perduta e della pecorella smarrita, Luca 15, vedrete che per due volte, naturalmente ripetere, nel caso di Gesù diceva già questa sua capacità educativa, per due volte Gesù insiste sul finché non la trova, finché non la trova. Quindi il pastore che lascia 99 pecore, non nell'ovile, come talvolta ci viene da immaginare, nel deserto, per andare in cerca di quella pecora che si è persa. E uno dice già la logica qui, non solo la nostra logica quantitativa odierna, ma già a quei tempi nessun pastore avrebbe fatto questo. Metto a repentaglio 99 pecore, lasciandole nel deserto per una, e già qui recuperiamolo. Dio sa contare solo fino a uno. Dal punto di vista dell'amore è così. Uno. Ma appunto, finché non la trova, non si ferma. Tu puoi anche fuggire. Vai in cielo, dice un salmo, trovi Dio. Vai sotto terra, viene lui a trovarti. La cocciutaggine di Dio. E lo stesso nella parabola delle dieci monete di cui questa casalinea ne perde una. E cosa fa? Beh, per capire quella parabola bisogna pensare, non so se siete stati a Cafarnao, a vedere questi, questi pavimenti delle casupole dei tempi di Gesù. sono o in acciottolato o in pietra battuta. Quando va giù il sole, è un disastro trovare una monetina, perché è... E questa accende la candela, scopa tutta la casa, finché non la trova, non si da requia. Per rendere ancora meglio, fate questa ipotesi, se le avesse perdute tutte e dieci, avrebbe potuto fare di più di quello che ha fatto? No! L'ha fatto tutto quello che poteva, fin quando l'ha trovata. Ecco, l'insisti, l'insisti anche in tempo non opportuno, non vuol dire che ogni volta che tuo figlio non vuol venire in chiesa, devi fargli una testa tanta, perché ottiene esattamente il contrario. Però vuol dire che di fronte a certe sue scelte, tu non ti dai per vinto. Tuo figlio, piuttosto che appunto uno dei più piccoli del regno che ti sono affidati, tuo nipote, insomma, ci tieni così tanto che non ti dai per vinto. finché non la trova lui, cioè finché tu riesci ad essere strumento di Gesù Cristo. Ecco, io leggerei così la cosa. Questo naturalmente esige una carità intelligente, cioè intelligente nel senso della capacità di intus legere. Devi trovare il momento giusto o i momenti giusti, perché se continui a rompere, ecco, ottieni l'esatto opposto, chiaro, soprattutto nell'adolescenza, ma anche più avanti, no? Però non ti dai per vinto, perché? Perché non è uno dei tanti. è lui, è lei e in amore vale lui, lei. Questo che nella logica paterno-figiale, materno-figiale, si capisce, vale, dovrebbe valere anche per un catechista, per un prete, per una suora, per una persona che ama, un'altra persona che vuol portare a Gesù. non ti dai per vinto, no? Per cui, non vale quella logica, mi dispiace, spero di non toccare ferite, ecco, ma non vale quella logica del darò il battesimo, no, non do il battesimo se lui vorrà a diciotta anni o quando è grande e deciderà. Ma che ragionamento è, figlio mio? Tu mamma, aspetti a diciotta anni a dargli il latte? Vediamo se decide bene, no, il latte è buono, gli serve, glielo do, ci credo e siccome lo amo, glielo do. Non gli dai il vestito quando si accorgerà di aver freddo, glielo dai subito. Perché? Perché il vestito è utile e perché tu ami lui, metti insieme le cose. E così per il battesimo. se per te Gesù Cristo è il tesoro, non puoi dire vediamo, deciderà lui. No, io cerco di partecipare del mio tesoro a lui. Perché? Perché gli voglio bene. Eventualmente sarà lui dopo a decidere no mamma, io non ci credo. Va bene, figlio mio, cioè, però io farò tutto il possibile per condurti da Gesù Cristo con quell'atteggiamento dell'atrofos, della balia, cioè, sapendo che non ti devo appiccicare a me, ti devo portare da lui. E sapendo che a un certo punto fuori dal nido ti dovrai inginocchiare non davanti a me, ma davanti a Gesù Cristo. Lui è il Signore della tua vita, però siccome è il Signore anche della mia e so che in Lui c'è salvezza, cerco di portarti da Lui, come cerco di insegnarti i valori grandi della vita, come cerco di darti le cose buone della vita. Mi sembra la stessa logica che talvolta non sembra evidente agli occhi di alcuni genitori o di alcuni educatori, a me sembra di un'evidenza proprio solare. Se ti voglio bene cerco di condividere le cose belle che ho, senza violentare la tua libertà, senza stufirti l'anima ogni volta che ti vedo, ma con quella capacità che è l'intelligenza della carità che è capace di attendere il momento giusto quando ti vedo tranquillo o quando ti vedo in crisi, perché no? Lì da mamma o da padre ti sono vicino nella crisi e ti porto da colui che è capace di dare un senso alla tua vita. E questo vale anche per la soluzione nella confessione? E lì bisogna bisogna vedere evidentemente dietro questa domanda bisogna vedere dov'è lui, dov'è lei. Puoi vedere? E questo vale anche per la soluzione nella confessione e io dico da sacerdote bisogna vedere dov'è quella persona lì. Evitando i due estremi almeno questo possiamo dirlo una chiusura totale sei in peccato mortale da questo peccato non ti può salvare nessuno. Non mi pare che Gesù abbia detto questo ma anche l'atteggiamento buonista del va bene allora vieni in sacrestia facciamo un segno di croce vai via sei pronto per la comunione no sei stato pagato a caro prezzo nel cuore di Dio tu sei stato pagato a caro prezzo e io che cerco di esserti nutrice cercherò quelle vie per far maturare in te la coscienza filiale ci vogliono dieci anni va bene mettiamo in conto dieci anni sei pronto subito certo ho tempo per te e ma ci sono tante cose da fare va bene torna dopo io ci sono per te o meglio Gesù Cristo c'è per te ecco non vorrei essere stato troppo generico ma lì proprio le ricette non funzionano e questo ce l'ha insegnato proprio Papa Francesco discernimento discernimento personalizzato la cura di Paolo uno ciascuno di voi ci sono dei principi ci sono dei comandamenti ci sono anche dei divieti ma poi dove sei Adamo dove sei Eva dove sei perché da lì si parte mi colpisce sempre e dopo concludiamo perché vedo che sono le cinque mi colpisce sempre quel racconto di Filippo in Atti 8 Filippo che già viene preso dallo Spirito Santo e viene messo su una strada deserta non sappiamo bene come lo Spirito Santo certo che già lì uno dice ma c'è Gerusalemme mandami a Gerusalemme no su una strada deserta cammina cammina vede questo carro di una persona importante che lo precede e sempre sotto la spinta di questa carità Filippo si affianca a questo carro di una persona importante che non conosce e camminano insieme questa persona che era un ministro del tesoro della regina Candace veniva dal Sud Sudan ed era andato a Gerusalemme pagano però affascinato dal Dio di Israele perché altrimenti non sarebbe andato a Gerusalemme e sta tornando verso il Sud Sudan e Filippo Filippo che era diventato diacono della chiesa di Gerusalemme va bene camminano insieme ed è interessante questo camminare insieme l'iniziativa viene dallo Spirito Santo Filippo docile allo Spirito Santo si mette a correre e poi però si mette a camminare insieme questo sul carro lui a piedi e sente Filippo che questo ministro del tesoro si vede che è ricco ma non sa neanche chi è vede la pelle probabilmente più scura ma non lo conosce sta leggendo uno dei testi misteriosi dell'Antico Testamento il quarto carme del servo sofferente di Isaia l'uomo dei dolori che ben conosce il patire uno di fronte al quale ci si copre la faccia è stato castigato per i nostri peccati ma Dio l'ha esaltato e allora non si leggeva a bassa voce non si leggeva mentalmente si declamava era l'abitudine e quindi Filippo sente e gli dice prende l'iniziativa ma tu capisci cosa stai leggendo e questo uomo colto probabilmente dice no e allora sale sul carro e partendo dal quarto carme del servo sofferente mentre vanno gli spiega Gesù la vita di Gesù a tal punto che affascinato dal racconto questa persona straniera colta pagana chiede a Filippo ma cosa mi impedisce di essere battezzato ecco questa è una buona immagine e dopo Filippo lo battezza e poi si dividono questa è una buona immagine dell'accompagnamento della confessione sì dove dove sei io ti devo piano piano far da specchio far da specchio cioè portarti di fronte a Gesù e dopo e dopo da quella da quel rapporto dove sicuramente soffia lo spirito di Gesù perché è un sacramento nascono tante cose belle nasce il perdono ma un perdono non magicamente inteso ecco un perdono che sgorga dalla situazione concreta dove una persona è e il ministro della chiesa dovrebbe camminare per un po' di tempo per aiutare semplicemente per aiutare questa persona a confrontarsi con Cristo e poi poi con la libertà no di cui si parlava prima lasciare che questo continui la sua strada nella vita per aiutare la sua strada la sua strada